il nuovo piano elettrico platinum che presto verrà messo a disposizione quindi è un nuovo piano elettrico platinum che molto presto sarà disponibile sul web per prezzo e posso mostrarti alcuni suoi suoi? sì, allora questo è il nuovo piano elettrico platinum, poi ci sono varie patch con il chorus tremolo, overdrive ce ne sono moltissime puoi modificare il suono? sì, possiamo entrare nella sezione T2L e addirittura possiamo aggiustare il campanello quindi possiamo aggiungere un buon sonno e fare i vostri patch e memorizzare all'istrumento bellissimo, grazie Marco presto grazie grazie grazie